o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo bella a tutti raga acqua bash e bentornati sul canale let's go signori dopo tantissimo tempo siamo tornati finalmente stavolta c'è aria di cambiamento su questo canale ve lo dico ve lo dico adesso cioè se non vi iscrivete adesso ve ne pentirete tra qualche anno quindi fatelo adesso iscrivetevi adesso perché quest'anno buttiamo giù tutto qualsiasi cosa che si mette davanti finisce sotto terra let's go oggi signori parte una nuova serie sul canale ovvero carte di merda voglio chiamarla così in questa serie andrò a reactare ai nuovi leak di spoiler chiamatele come cazzo vi pare delle nuove carte in uscita su yugioh appunto perché ricordiamoci sempre che yugioh è il miglior gioco di carte gli altri possono anche andare a pescare le montagne ovviamente questa serie non andrà al passo con i tempi perché non sto tutto il giorno a grattarmi le palle quindi appena posso vedrò le nuove carte in uscita e oggi come primo episodio voglio andare a recensire le nuove carte salamagna perché ho visto che sono usciti dei nuovi leak i nuovi spoiler su cosi porca visita un sincro salamagna cioè non mi aspetto niente ma sono già deluso detto ciò partiamo con il video dov'è il mouse dio topo ok signore signore siamo qua queste sono le nuove carte salamagna in uscita con il nuovo pacchetto che non si sa bene come si chiamerà probabilmente avrà un nome di merda come tutti i nostri nomi italiani molto bene la prima carta che andiamo a vedere si chiama salamangreat weasel nome molto carino livello 3 fuoco 700 di attacco 1400 punti di difesa a due effetti partiamo subito se hai due o più mostri salamagna nel cimitero puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano va bene c'è sta c'è sta tipo un extender secondo effetto se un mostro salamagna rituale fusione synchro x is o e link viene evocato specialmente sul terreno mentre questa carta nel cimitero puoi targhettare un altro salamagna nel cimitero piazza questa carta in cima al deck se lo fai speciale al mostro dalla parte del terreno dell'oppo e poi pesca una carta interessante non sembra malaccia sta carta non sembra malaccia dio salamagna è partita la pubblicità no no non mi scrivo a prime non mi scrivo a prime guarda i film in streaming dio quanto è brutta la moglie dei totti l'ex moglie dei totti si pare tipo un mostro ok passiamo al secondo supporto salamagna tiger o tiger chiamatelo come cazzo vi pare anche questo a questo addirittura c'ha tre effetti livello 5 tuner 2500 punti di difesa il che va bene allora puoi scartare un'altra carta salamagna evoca specialmente questa carta dalla tua mano buono buono anche questo è un extender praticamente tutti extender hanno fatto se questa carta che controlli viene utilizzata come sincron materiale per un mostro fuoco puoi trattarla come un non tuner vabbè c'è sta una volta per turno puoi aumentare o diminuire di 1 il livello di questa carta allora fino adesso questi due nuovi supporti mi piacciono mi piacciono perché sono due extender c'è sta c'è sta problema di salamagna che muore sempre con nibiru vediamo il link ok un altro link 4 praticamente i link 4 su salamagna sono inutili a parte access code vabbè 6 berzo 2008 link 4 con 2008 è sempre qualcosa di stupido perché secondo me un link 4 almeno 3000 mia opinione personale ok va bene posso dirlo è il mio cazzo di canale link 4 che ci hanno meno di 3000 fanno schifo comunque se questa carta viene evocata link utilizzando vabbè lei stessa dio cristo puoi aggiungere una carta salamagna dal deck alla mano ma che monnezza è se un mostro fuoco scoperto sta per essere distrutto in battaglia o da un effetto di una carta se viene distrutto in battaglia o da effetto di una carta mentre questa carta è un cimitero puoi targettare uno di quei mostri evocare specialmente questa carta e se lo fai guadagna l'attacco del mostro che monnezza cioè che carta di merda ma perché fare un link 4 così stupido cioè devi fare la reincarnazione quindi già che fai il link 4 c'è nibiru che sta qui nibiru sta qui pronto in più devi favorire la reincarnazione per fast effetto di aggiungere una carta salamagna cioè monnezza pura monnezza pura sta carta secondo effetto fa ride però il primo fa veramente merda sono curioso di andare a vedere il sincro sono sincero ok salamagna bars greyphone bellissimo cioè l'artwork è qualcosa di fantastico cioè l'artwork è veramente bella raga livello 8 un tunnel più non tunnel puoi utilizzare solamente il primo il secondo effetto di questa carta una volta per turno va bene lui è livello 8 ok puoi targettare un mostro di livello 7 inferiore fuoco nel cimitero non puoi evocare specialmente mostri per il resto di questo turno accetto mostri fuoco e speciala quel mostro e se lo fai riduci il livello di questa carta di quel mostro ok quindi quindi già mi immagino il secondo effetto quale sarà se questa carta viene sincronizzata utilizzando lui stesso può attivare questo effetto due punti durante la prossima stambi speciala un mostro dal cimiter ma che è ma che cazzo è sta monnezza ma che è sta monnezza c'è tu rischi di prendere nibiru per fa' sta carta di merda cioè sta carta è utile come uno scolapasta senza buchi fa schifo fa letteralmente cacare a spruzzo la merda liquida ma perché fanno ste carte ma perché la konami stampa ste cose cioè paga pure delle persone per disegnare ste carte forse non so se le paga perché inventa una carta sincros alla magna che poi pure bella c'è a me mi ruote veramente il culo perché è una carta bellissima cioè un grifone bellissimo un cazzato nero che c'è un effetto che fa vomitare la merda cioè praticamente devi sincronizzare fare lui e l'effetto speciale al tunnel con cui l'hai usato se ria abbassa livello risincronizzi lui quindi uno due tre quasi a quattro evocazioni ne manco ste cinque no perché fai fai il primo mostro il secondo mostro sincronizzi fai lui stai a tre effetto evochi il tunnel serie bassa livello boom quinta evocazione rifai lui ti prendi nibiru qui però al prossimo alla prossima stambi speciali un mostro dal cimitero ok campione no vabbè rega veramente io dico perché la conami deve fare queste carte cioè io mi incazzo veramente perché gli stavo pure aspettare i supporti salamagna dio cristo perché fate ste carte c'è sta carta no ma pure il link 4 ma tu puoi fare link 4 reincarnato per quell'effetto stupido ad anacarta c'è salamagna deve fare il lupo due volte in modo che se gazzella risolto c'è almeno la negazione fissa no no tu devi prendere nibiru per fa questo veramente senza parole senza parole rega veramente schifose attenzione perché abbiamo anche una carta magia rapida spettacolare magia rapida cioè magia rapida io mi aspetto qualcosa di forte visto che le nuove magia rapida sono tutte sgravate può attivarla vabbè una volta per turno targhetta tre dei tuoi mostri fuoco che sono banditi e o nel tuo cimitero mischiali due nel mazzo e solo fai special al terzo ma questo turno il suo effetto è negato non può attaccare ok ma carta un po che puzza puzza sta carta però comunque sia sta cosa te potrebbe far ripartì in teoria te potrebbe far ripartì dopo che se hai preso nibiru qui per fare quelle altre carte inutili perché sicuramente devi nibiru frequestare speciali un mostro e va bene poi il secondo è se tu controlli un mostro fuoco rituale fusione sincreti su link dove l'attacco è differente dal sottacco originale targhetta una carta soltanto non distruggila ok sta carta poteva essere un pelino più forte se magari bandiva invece targhetta spacca una monnezza una monnezza è una monnezza praticamente una cazzo di monnezza questa carta questi supporti fanno schifo ok abbiamo anche la trappolina attenzione salamagna revive puoi usare solamente tutte e due effetti una volta per turno targhetta un mostro fuoco nel cimitero evocalo specialmente ok c'è sta carta è più forte del sincro ok una trappola per carità è meglio del sincro sta carta secondo effetto puoi bandire questa carta al cimitero targhetta un salamagna che controlli un mostro con lo stesso nome nel cimitero mischia il secondo nel mazzo se lo fai il primo guadagna l'attacco del secondo ma che è ma ancora con queste cose ma qui si sono ancora convinti che si vince con l'attacco più grosso ma che cazzo c'è sta lavorando dietro la conami le scimmie stampiamo carte salamagna che non fanno niente no vabbè raga incredibile non c'ho parole veramente io mi aspettavo qualcosa di forte mi aspettavo una sorta di anti nibiru che magari qualcosa che andasse a parare sta cosa di nibiru perché te fanno nibiru e te sparecchiano niente la conami come sempre stampa ste merde questa è monnezza pura c'è proprio letame monnezza c'è proprio i sacchetti dell'umido in confronto puzzano di meno di queste carte non c'ho so senza parole raga so senza parole mi dispiace ma so senza parole ok comunque la cosa buona è che nel pacchetto dove escono tutte ste carte che ci stanno anche i vulcanici e i pugili indomiti e ristampano un sacco di carte almeno come c'è scritto qua ristampano gazzella spinni staglio la lince il wolf il wolf il lupo il santuario il circo ovviamente tutto il mazzo ristampano però che cazzo ma avete fatto il grifone fatelo bene no fatelo bene cazzo no raga scrivete un commento scrivetemi cosa ne pensate voi di queste carte di merda perché sono carte di merda oggettivamente solo la magia se solo la magia si salva i due tuner invece mi stanno simpatici perché comunque sono extender si specialano a buffo però veramente cioè hanno fatto un sincro che come artwork è bellissimo ma come effetto fa schifo fa cagare a spruzzo la merda proprio quella marrone scura che è incredibile veramente assurdo non capisco perché la konami deve stampa ste cose piuttosto non le stampate non c'ha senso cioè il sincro che è speciale durante la prossima stambi ma non ci arrivi alla prossima stambi se fai il grifone non ci arrivi devi giocare contro che cazzo fare vieni bilo perché il prossimo turno evocherò un posto durante la stambi ahaha raga lasciate un like iscrivetevi se ancora non avete fatto ricordatevi di iscrivervi andatemi a seguire su instagram mi trovate come bastardo 7 lì faccio più cose rispetto a youtube perché faccio i sondaggi poi potete iscrivermi in dm vi rispondo i consigli qualsiasi cosa se fammo du chiacchiere per il resto lasciatemi un like e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate voi di queste nuove carte salamagna noi si beccamo al prossimo video let's go stavolta è stato il diavolo a comprarmi l'anima bisogna vendere al migliore offerente sempre no Grazie a tutti.